Buonasera a tutti amici di Volonbrite, ci troviamo qui 28 luglio in piazza Darmi per la prima serata dei dialoghi sulla salute. E' appena finito l'incontro con l'ospite di questa sera e direi di iniziare con un rapido botta e risposta per permetterci di conoscerlo un po' meglio. Chi sei? Mi chiamo Domenico Cravero e sono un prete. Per quale organizzazione lavora? Io ho fondato, a partire da un'esperienza di volontariato, una cooperativa sociale che si chiama Terra Mia. Ok, in poche parole che cos'è che fa Terra Mia? Terra Mia si prende cura delle persone, persone che hanno o delle difficoltà fisiche, oppure dei problemi mentali, oppure problemi di altra natura legate alla vita, attraverso il lavoro agricolo e attraverso il contatto con la natura. Ok, cosa fai per restare in salute? Curo molto l'alimentazione, sana, equilibrata e poi soprattutto il movimento, il contatto con la natura. Ok, e in ultimo ma non ultimo, qual è una coccola o comunque un'abitudine che ti concedi a cui non rinunceresti assolutamente mai per tenerti in salute? Ecco, io faccio una vita molto molto movimentata, cerco però di non mancare mai a un appuntamento due settimanali, di cioè un pasto che io chiamo Cenino, con persone con i quali ho un rapporto di affetto e di legame, dove il cibo diventa il segno dell'amicizia e dell'unione e anche del riposo. Ok, grazie mille per le tue parole, grazie mille a voi e alla prossima intervista.